Eccoci qua, eccoci qua, allora sono qui per riportarvi tutta la mia esperienza completa con Don Elvis. Rapidamente chi sono e che cosa faccio? Io sono Arthur, sono autore di Business Online, mi occupo di Business Online e di Online Marketing soprattutto grazie a Don Elvis. Ho avuto un boost nella mia attività durante un periodo di crisi molto difficile, grazie alla quale sono riuscito a riprendere la mia attività e ottenere tantissimi risultati concreti grazie all'Online Marketing. Perché l'Online Marketing è l'unica cosa che può permetterti di ottenere dei risultati tangibili, concreti, quindi di conseguenza di monetizzare e guadagnare soprattutto grazie alle competenze pratiche applicate e trasmesse da Don Elvis. Perché Don Elvis? Perché con tante persone che ho conosciuto nella mia vita, con tante persone alle quali mi sono affidato da imprenditore, quindi da persona che rischio ogni giorno, rischio ogni giorno qualcosa, ho deciso di rischiare anche questa volta. Mi è apparso tramite una di quelle pubblicità che sai tu vedi su Instagram, su Facebook, scorri e vedi quelle continue pubblicità. All'inizio è uscito sto tizio che dicevo, ma mi puzza un po', è un po' strano, ma avevo necessità, avevo bisogno di migliorare i miei risultati, di avere quel boost che non sapevo che in un certo senso esistesse e si potesse avere. Quindi ho deciso di contattarlo, di iscriverlo, di iscriverli e di ottenere concretamente qualcosa che potesse migliorare tutti gli aspetti del mio approccio nell'Online Marketing. Vi consiglio assolutamente di risolvere tutti i vostri problemi da un punto di vista di monetizzazione, quindi stiamo parlando di soldi, money, produttività e situazione economica, con e grazie a Don Elvis perché l'unico modo per risolvere i problemi è guadagnare di più. L'unico modo per risolvere i problemi è compensare, migliorare i profitti, migliorare l'approccio economico, migliorare la situazione economica. Questo lo dico veramente col cuore perché dopo aver generato tanti soldi online, dopo aver guadagnato tanti soldi online, vi dico che la vita senza soldi è difficile, ma la vita con i soldi resta lo stesso difficile, ma se hai più soldi puoi risolvere meglio i problemi. E l'Online Marketing, l'esperienza di Don Elvis sicuramente vi può aiutare a fare molti più soldi per voi e per la vostra attività. A presto!